Tre rane cadero in un secchio di latte. La prima rana, pessimista, pensò che non c'era più niente da fare e si lasciò miserevolmente affogare. La seconda rana, lucida ragionatrice, pensò che con un balzo avrebbe potuto salvarsi. Calcolò la traiettoria, la potenza del salto, la lunghezza, ma non si accorse che il secchio aveva un manico e contro quel manico andò a sfracellarsi. La terza rana aveva soltanto una gran voglia di vivere e si allora cominciò ad agitarsi, a riscuotersi, a dimenarsi dentro il latte finché il latte diventò burro ed essa si salvò. Cosa può significare questa storiella? Che quando si è in una difficoltà pensare troppo non va bene, pensare male porta male, non pensare, ma aver voglia di uscirne fuori porta bene. Ciao amici, ciao.